Erano le 7 e 07 del 9 novembre 2022. Esattamente un anno fa la costa settentrionale delle Marche tremò con una magnitudo 5.7 registrando il più potente terremoto avvertito nel città di Pesaro e Fano da un secolo a questa parte. L'epicentro fu nel mare Adriatico a circa 31 chilometri dalla costa fanese. Non ci furono conseguenze per l'incolumità delle persone, ma danni rilevanti ad edifici pubblici e privati. Pesaro stimò danni per oltre 20 milioni di euro, Fano per oltre 30 milioni, Ancona per circa 40 milioni, in un conto allungatosi ad altri svariati milioni di euro per il ripristino della rete viaria delle strade provinciali. Le tre città più popolose delle Marche furono comprese in un cratere sismico per il quale il Governo ha accettato la richiesta di stato d'emergenza deliberato dal Governo lo scorso mese di aprile. Al momento attuale sono stati riconosciuti complessivamente per l'area del cratere 4 milioni e 8 per gli interventi di somma urgenza. Per il Comune di Pesaro sono state stanziate risorse pari a 112 mila euro per il Teatro Rossini e 52 mila euro circa per il chiostro della Chiesa San Giovanni. Aspettiamo di capire quanto sarà e quale sarà l'importo del secondo straccio. Le indicazioni che ci arrivano sono di circa 62 milioni per 143 interventi individuati. Lo stato d'emergenza persisterà fino ad aprile 2024. Quindi noi poi attendiamo quello che sarà il decreto che verrà emesso appunto dalla Regione rispetto ai 62 milioni complessivi destinati al cratere Pesaro, Fano e Ancona. Per quello che riguarda i privati ancora non è stato nominato il commissario del Sisma. Quindi bisognerà attendere la nomina del commissario per capire quelle che saranno le risorse che il Governo vorrà destinare ai privati che hanno subito danni più o meno rilevanti dal Sisma. Quindi siamo fiduciosi. Non sappiamo che cifre, quali cifre, quando il Governo destinerà le risorse e il primo passo sarà quello di nominare il commissario del Sisma.